è sembrata Luca. Quando una gara finisce senza vincitori lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due, io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto però Siamo ai saluti finali grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia Grazie